Partenza avanti per tutti, sembra Fattoni per la vada meglio, Fattoni, Grazie, si crede il trenino per andare in supercross, Fattoni, vai comando, Grazie, c'è stato 2 seconda, Gorgaglio in terza, ma ancora, Bertagnoli, Tugnolo, Bertagnoli curva molto stretta, davanti, quarta posizione Bertagnoli, Tugnolo in terza, quindi Fattoni in prima posizione, Grazie, rimane, quindi Giacomo, Fattoni, attenzione all'inizio, ciao!